Bentornato amico, i video di oggi sono davvero terrificanti. Prima di iniziare però, ti chiedo di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. A te costa solo un click, ma mi ripaga delle ore di lavoro che impiego per creare i video. Se sarai così gentile, ti ringrazio di cuore. Ed ora, iniziamo. Nella prima clip, un utente di TikTok chiamato Fernando Victor Roli stava lavorando durante il turno di notte in una stazione di treni. Poi, verso le tre e mezza del mattino, inizia a registrare alcune clip per mostrare come si lavora in stazione. Però, dopo aver pubblicato i suoi video, alcuni dei suoi follower hanno notato qualcosa di davvero inquietante. Sembra ci sia qualcuno in piedi proprio dietro la porta di un treno. Ma Fernando ha poi specificato che quel treno era lì fermo e chiuso fin da mezzanotte e dentro non poteva esserci nessuno. Ma allora, questo cos'è? Si tratta di un fenomeno paranormale è solo il riflesso della luce o un collega nascosto per fargli uno scherzo. Un autista di autobus argentino dice che ogni volta che termina il suo turno finisce vicino ad un cimitero e gli capitano spesso cose molto strane che secondo lui hanno a che fare con il paranormale. Così una notte decise di registrare queste esperienze una volta arrivato alla sua ultima fermata vicino al cimitero. All'inizio utilizza l'applicazione che permette di identificare i fantasmi non visibili ad occhio umano. Detectare le ondas di calore che stai qua nel cimenterio che si appare è la del cimenterio la concha e sua madre, che fu essa? Che si appare... la p***a che ti pariò? A ver... non solo la... che si appare... ! che si appare... la p****a che ti pariò? a ver... questo per lui era più che sufficiente come prova ma ha continuato a registrare anche nei giorni successivi Poi, dopo aver utilizzato quest'app per circa una settimana, una notte racconta di aver avuto un'esperienza molto più spaventosa La quinta parte, vamos a ver si hoy captamos algo La p***a que le pario, que fue eso, pareciera como que me cerraron una ventana La p***a madre, p***a madre, no grabo nunca mas aca eh, p***a su madre Me estan abriendo la puerta, lo vieron eh, quedo grabado, quedo grabado, la p***a su madre La p***a su madre, me estan abriendo, ay p***a que te pario La p***a che te pario, la p***a che... Dopo questo episodio, l'uomo non ha più registrato nulla e a quanto pare, ha chiesto di cambiare linea di autobus per non doversi più fermare in quella zona Gli investigatori del paranormale Jordan e Johnny, del canale Paranormis si sono recati questa volta in una vecchia azienda agricola abbandonata che secondo i residenti del luogo è abbastanza infestata Negli ultimi 70 anni infatti, questo edificio ha cambiato decine di proprietari e nessuno ha più voluto vivere in quella fattoria negli ultimi tre anni I ragazzi sono stati contattati da alcuni vicini che raccontano di aver visto qualcuno che li guardava dalle finestre del secondo piano passando davanti alla proprietà Data la terribile fama di quella casa, nessuno vuole più andarci a vivere nonostante il prezzo sia davvero basso Così, arrivati sul posto, subito Jordan inizia a fare una sessione di privazione sensoriale chiudendosi nel bagno mentre Johnny fa delle domande Jordan rimane chiuso lì dentro con delle cuffie che lo isolano dal mondo esterno facendogli sentire solo ciò che esce dalla spirit box We've tried doing a sensory deprivation here We've got this camera and this camera We heard some noises coming from this area While we were kind of just setting up the cameras And it just sounded like it was trying to draw us into this area So we wanted to do a sensory deprivation here But we're going to be doing it a little bit differently Jordan's going to be in here And he's going to be calling it out And I'm going to be wandering around the house So we can kind of just split up and see what we can hear If you're the one who scared that couple off Can you make a noise for us? Eat me too Or give Jordan some answers Johnny Did you hear that? What was that? I heard something It was this light bulb dude A light bulb Look Poco dopo che Johnny chiede allo spirito di fare un suono Una lampadina cade per terra proprio fuori dal bagno in cui si trova Jordan E la telecamera fissa riprende perfettamente l'evento Poi Più avanti Mentre posizionano altre telecamere fisse Le cose Iniziano a peggiorare Ok yeah So I kind of want to Set up a camera in that corner There And I want to set up a camera Either in this corner Or Stop 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 Whoa 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 Jordan Dude what was that? What? Jordan Jordan What? Hey Are you okay? Are you okay? Where should we go dude? I want to get out of here for a minute Un tavolo comincia a girare da solo Cosa che spaventa molto i due esploratori Ma questa non è l'unica cosa che è successa in quel momento Qualcosa che probabilmente tu non hai notato There's a lot That was going on during the table Incident that I think was missed And for me personally One of the scariest things Aside from the table being flipped Was hearing the footsteps coming down the stairs Qualcosa infatti Sembra scendere velocemente per le scale Nello stesso momento in cui il tavolo inizia a girare Stop 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 Whoa 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 I ragazzi si prendono un attimo per raccogliere le idee E poi si dirigono verso la stalla He said it sound like he said Whoa 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 What was that? That's what that was Do you throw a box? You can say yes, let's do the box. What was that? You can say yes, let's do the box. You can say yes, let's do the box. Prima una lattina, poi una grossa cassa vengono lanciate con forza attraverso la stalla, ma anche andando a controllare non trovano nessuno. Dopo questa cosa i ragazzi decidono di andare via e finire l'esplorazione, ma c'è qualcos'altro che hanno visto non appena sono arrivati. Presta molta attenzione. All the glass is shattered and stuff. So it's gotta be that window? No, no, I've found the light back here. Yo Johnny, what? lo hai visto sembra esserci una mano scura che esce dalla finestra al secondo piano potrebbe trattarsi della stessa entità di cui hanno parlato i vicini dunque è davvero questa fattoria infestata da una presenza maligna o sono solo trucchi organizzati per fare il video ora spostiamoci in Giappone dove una coppia di amici si dirige durante la notte per esplorare un ponte che si dice sia fortemente infestato infatti il ponte è molto alto e sfortunatamente si è trasformato in un luogo da cui persone in difficoltà decidono di lanciarsi sono decine le persone che ogni anno saltano da quel ponte a causa di questi tragici eventi è stato ricintato con una grossa rete come misura preventiva i due ragazzi hanno però sentito storie riguardo attività paranormali che ogni notte si manifestano su quel ponte così incuriositi decidono di andare ad indagare e mentre attraversano il ponte registrano video e si scattano alcune foto ma quello che succede ora è davvero spaventoso spaventoso la notte la notte la notte la notte la notte la notte Rimangono esterrefatti notando che in una delle foto che si sono scattati uno di loro sembra non avere la testa. C'è chi pensa che in quel momento il ragazzo sia stato maledetto, attaccato da uno spirito maligno. L'esploratore urbano Christopher Hill del canale Urban Hill un giorno si trova ad esplorare il vecchio liceo abbandonato di Cleveland in Ohio. L'enorme edificio venne costruito nel 1940 ma durante gli anni a causa della mancanza di fondi per la manutenzione la scuola venne chiusa e abbandonata per sempre nel 2013 e da oggi poco a poco l'edificio sta andando in malura. In molti credono che la scuola di più di 80 anni sia infestata da numerosi spiriti di vecchi studenti ma ciò che più spaventa Christopher sono le persone vere che potrebbero aver occupato quella struttura. Durante la sua esplorazione Chris stava scendendo delle scale quando qualcosa gli causa un terribile spavento. sembra proprio che qualcosa di pesante stia venendo trascinato. Poi quando guarda verso l'alto si può vedere quello che sembra un tavolo che attraversa le sbarre di ferro proprio ad un passo dal cadere verso il basso. Chris dunque pensa che non è solo lì e inizia quindi a cercare l'uscita ma gli spaventi non sono ancora finiti. Qualcosa cade dall'alto rischiando di colpire Chris. cosa che lo convince definitivamente ad uscire di lì. Quando poi ha pubblicato il video sul suo canale gli iscritti hanno notato qualcosa che lui non aveva visto. lo hai visto? Si può vedere una misteriosa figura completamente nera che si nasconde dietro un pilastro all'interno degli spogliatoi della palestra. Chris non aveva visto nulla ed ha continuato così a camminare infatti una volta lì dentro non c'era nessuno. Poi ancora quando si trova al terzo piano della scuola capta nuovamente qualcosa di strano. lo hai visto? Quella che sembra essere la stessa figura misteriosa vista in precedenza scompare rapidamente dietro una porta. C'era forse qualcosa che stava seguendo Chris? La scuola è dunque davvero infestata? o si tratta solo di uno scherzo? Tu cosa ne pensi? Vi ho già mostrato alcune clip del canale Really Hunted. Sul suo canale infatti durante gli anni quest'uomo ha pubblicato vari video che mostrano l'infestazione paranormale da parte di un poltergeist in casa sua in Inghilterra. Se guardi regolarmente il mio canale saprai che io non credo molto negli orbs dato che spesso si tratta solo di insetti o polvere. Però in questo caso se si guarda attentamente si può notare una specie di sfera luminosa che per mezzo secondo vola nella stanza prima di abbattersi velocemente sopra la sedia che poi si ribolta. Probabilmente anche il cane è ormai abituato alla cosa dato che non si muove assolutamente. Un'altra notte invece l'uomo stava dormendo nel suo letto quando improvvisamente accade questo. è un'altra notte invece l'uomo stava dormendo nella stanza prima di abbassare un'altra notte prima è possibile sentire alcuni passi molto pesanti poi il comodino praticamente si ribalta da solo in più qualcosa attiva l'allarme della casa ma quando l'uomo scende a controllare lì non c'è nessuno. Il proprietario di casa dice che le cose sono peggiorate a tal punto che sua moglie assieme alla figlia sono andate a vivere a casa della madre. Lui dice che l'unico motivo per il quale non si trasferisce è che non ha abbastanza soldi e dopo tutto quella è casa sua. Ebbene amico questi erano i video che ho raccolto per te oggi se però hai ancora voglia di guardare video interessanti e misteriosi non dimenticare di recuperare quegli usciti durante la settimana se li hai persi. Io per ora ti saluto ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao